Salve, questo video tutorial è preparato dall'ufficio tributi del comune di Vietri sul mare. Questo tutorial riguarda il corretto calcolo dell'IMU della TASI o dell'IMU più TASI. La TASI è l'acronimo di TASSA sui servizi indivisibili che è la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione, l'illuminazione comunale. Per Vietri sul mare, l'aliquota deliberata sull'abitazione principale, con categorie comprese da A2 ad A7, è del 3x1000, con detrazione di Euro 30 più Euro 30 al figlio fino al compimento del 26esimo anno di età. Vale la TASI al 3x1000 anche sulla casa coniugale assegnata al coniuge in corso di separazione o divorzio, è compresa sempre come categorie da A2 ad A7. Valgono in questo caso lo stesso le detrazioni su casa e figlio. TASI, novità, anche al 3x1000 su abitazioni comprese, sempre nelle categorie A2 ad A7, date incomodato ad uso gratuito a parenti di primo grado, però in questo caso non valgono le detrazioni. È possibile che molte persone abbiano pagato. In fase di anticipo l'IMU in questo caso va compensata, va rimodulata, nel modo che più in là vedremo. La TASI al 3x1000, abitazione principale, unico e immobile, purché non locato, appartenente ai militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia. In servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimore abituale, previsti in via generale dalla normativa vigente. La TASI al 3x1000 è anche all'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, però a condizione che le stesse non risultino locate. Bene, detto questo, vediamo il programma che è stato creato da amministrazionicomunali.net e personalizzato per il comune di Vidri sul mare. La personalizzazione permette di avere già l'aliquota corretta e le detrazioni corrette. Facciamo un'ipotesi sul calcolo TASI. Andiamo a cliccare nella zona della TASI. Calcolo TASI 2014 e stampa modello F24. Come vedete immediatamente ci si presenta la tipologia abitazione principale e relative pertinenza. Lo spazio che qui vediamo è per la detrazione che vedremo apparire appena immesso la rendita catastale. Ipotizziamo una rendita catastale non rivalutata di 580 euro, come vi suggerisce la collega responsabile dell'Ivul. I mesi di possesso, vediamo, sono 12. L'aliquota TASI è già settata al 3 per 1000. Il programma ha in automatico inserito la detrazione di 30 euro. Avendo la proprietà al 100% non abbiamo altri proprietari residenti e pertanto non riempiremo questo spazio. Ipotizziamo anche un figlio. Come vedete si apre in automatico un'ulteriore detrazione per figlio di euro 30. Se l'immobile fosse storico o inagibile abbiamo la possibilità di ridurre ulteriormente questo tributo poiché c'è un'ulteriore riduzione che verrà caricata in automatico. Ipotizziamo una pertinenza C2 di euro 85, sempre con percentuale di possesso al 100%. Il calcolo fatto, in automatico, clicchiamo su aggiungi immobile e vedremo, scorrendo la finestra sul lato, l'immobile è stato creato. Se ci accorgiamo di qualche errore in fase di creazione abbiamo qui, come vedete, abitazione principale, euro 580. Rivalutati, ci fa vedere tutto il calcolo, è una pertinenza C2. Il totale è 257. Ripeto, se abbiamo immesso qualche numero errato possiamo andando su questa matita, modifichi immobile, andare a correggerla. Su stampa report possiamo capire e vedere immediatamente come è stata fatta questa elaborazione. Potete aprire e stamparlo. In modo da vedere passaggio su passaggio come è stato fatto questo calcolo. E qui avrete tutte le tipologie di detrazioni, i chiarimenti e quant'altro vi possa servire affinché voi possiate pagare regolarmente questo tributo. La tasa è 275 euro. In questa fase la macchina ci prepara un acconto, che è chiaramente il 50% di 138 euro, che va pagato entro il 16 ottobre di quest'anno, del 2014. Abbiamo fatto questo report, abbiamo visto questo report, anzi, creiamo l'F24. Niente di più facile. Inseriamo i dati anagrafici per l'F24. Codice fiscale, in questo caso dovremmo ipotizzare il cognome Rossi Mario, data di nascita 10.10.1965, nato a Vietri sul mare. Chiaramente sto inventando i dati in provincia di Salerno, maschio. Comune di residenza Vietri sul mare, provincia di Salerno. Il codice fiscale, chiaramente dovrei calcolarlo, e non lo mettiamo, stampa F24. Voi chiaramente lo dovete inserire il vostro codice fiscale. Vediamo che la macchina sta creando il modello F24, con i nostri dati. In questo caso, il modello F24 è quello classico, fatto in tre copie. Una rimarrà a voi e due rimarrà alla banca o all'ufficio postale, eventualmente dove andrete a pagare. Per un fatto di ulteriore comodità e praticità, possiamo stampare l'F24 semplificato, che, essendo un solo foglio diviso in due, è più pratico e più economico. Come vedete, troviamo il codice del tributo che ci identifica la tasse, il codice dell'ente L860, che individua il comune di Vietri sul mare, qui ACC punto è l'acconto, immobili 2, perché abbiamo casa e pertinenza, l'anno, le detrazioni e l'anticipo. Con questo lo stampiamo e possiamo tranquillamente versare all'ufficio postale o alla banca questo tributo, evitando così di spendere ulteriori soldi per il personale che ce lo prepara. Abbiamo finito con questo primo video tutorial, speriamo di essere stati utili e prepareremo il secondo. qui c'è.